Ciao a tutti Abbiamo un, non so, una macchina, un qualcosa che ci possa aiutare per arrivare prima Vediamo un po' qui su se ci sta qualcosa perché a piedi non me la vorrei fare Allora, 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 una macchina, niente Fatemi vedere, fatemi vedere Non avete neanche una macchinuccia Oh, frecce Una macchina Aia, 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 aia Ma io avevo bisogno dell'arma, cioè, di una macchina Non vedete se la devo fare tutta a piedi Ma che cosa Ma è aquila Sto diventando troppo vecchio per sta merda Io vorrei una macchinuccia, una sola Vieni qua No, se vieni qua, voglio una macchina io Una Ma è possibile che non ci sia una macchina inchierata? Ok che siamo sperduti nel mondo, però Dai, una macchinuccia Eppure un tre ruote Anzi, se è un tre ruote è pure meglio Perché è figo il tre ruote Gli amici, non vorrei incorrere adesso in varie... In varie lotte Vabbè, comunque ormai siamo quasi arrivati Vediamo un po' Eh sì, scendiamo col rampino qua Vai Aia Curiamoci Io spero solo di non morire qua Perché è un pochino ripida la cosa Vabbè, però Yeah Vai Allora, raggiungiamo questo benedettissimo avamposto Anche se ci hanno suggerito di non andare da soli Ma noi siamo a Jaigal E non abbiamo paura di nessun avamposto Avamposti, lo so come funziona Lo so Ok Bene Quindi Ok Già ne ho visti due Quindi facciamo... Oh, da qua sopra abbiamo una bella visuale Quindi c'è la macchinetta fotografica Abbiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Perfetto Solo sette Ok Credo che dovrebbero essere tutti Ok Perfetto Allora Vediamo un attimo un po' Le armi che abbiamo Vabbè, abbiamo l'arco E i cottelli da... Ok Quindi Ma io, in teoria Distrugge le gabbie per liberare gli animali E come la distruggo io quella gabbia? Uh E c'è anche Quello là Z Per tenerlo sempre sotto occhio E anche lui Quanta gente Disattivo distrugge l'allarme Io la provo a fare una cosa Vai, ha funzionato La mia idea ha funzionato molto bene Vai, grande Tiro Maggia Bella, bella elefante Vai, mamma mia Et voilà C'è Dai Siamo stati troppo pro Dai Stealth Non ci hanno mai visto Uno l'elefante E un colpo L'ultimo colpo L'ultima frecciata Adagi, poi l'avamposto Sei proprio un testone, Ajai Ma devo ammettere Che hai fatto un buon lavoro Grazie Mi è sembrata la cosa giusta da fare Tua madre sarebbe fiera Dov'è che vuoi andare? Lakshmana Eh Arrivarci non sarà facile Pagan Min ci ha tolto il nord anni fa E arranchiamo anche qua al sud Ho promesso a mia madre di portarci le sue ceneri Il suo ultimo desiderio Pensaci Ajai Tua madre sapeva perfettamente cosa sarebbe successo al tuo arrivo in Kirat Il figlio di Mohan Gaal Che ritorna nella sua terra natale straziata dalla guerra Ishbari non era una stupida Che tu sia qui ad aiutarci Non è un caso Resta con noi Ajai Unisciti al sentiero d'oro E ti prometto che esaudirai il desiderio di tua madre Che si trattasse di spargere le ceneri a Lakshmana O di qualcosa di molto più grande I miei genitori hanno davvero creato il sentiero d'oro? Sì è così Volevano liberare il Kirat dal regime di Pagan Ora hai la possibilità di aiutarci a realizzare il loro sogno Vedi Di pensarci Ajai Beh mamma Credo che mi fermerò Ajai Gaal ha deciso Rimaniamo in Kirat Comunque ragazzi Questo video finisce qui Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Mi raccomando Volete fare una partita come me A Far Cry multiplayer Aggiungertemi anche su YouPay Il nome che dovete trovare è DarkBlue1160 Ciao a tutti